Sono accusati a vario titolo di una serie di furti commessi in danno di esercizi commerciali e di abitazioni nonché di borseggi, truffe online e atti vandalici. Per questi reati all'alba di oggi gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara hanno eseguito una misura cautelare restrittiva nei confronti di 11 giovani componenti di una terribile gang protagonista di alcuni episodi criminosi accaduti in città nei mesi scorsi. I giovani erano soliti agire sotto l'effetto di stupefacenti per darsi coraggio e riprendere le loro imprese criminali con l'uso di smartphone. In totale sono stati 11 giovani indagati tra cui un minore, uno dei quali è finito in carcere mentre per altri due sono stati disposti gli obblighi di dimora. Ci ha colpito il fatto che procuravano danni ingenti per conseguire poi dei profitti a volte irrisori e in altri casi c'erano dei comportamenti non spiegabili, irrazionali, degli atti di vandalismo che non avevano una motivazione. Poi le intercettazioni ci hanno spiegato il perché di questi atteggiamenti perché questi ragazzi erano soliti drogarsi prima di colpire e lo facevano proprio per darsi coraggio. Però questo li rendeva anche più pericolosi perché non erano pienamente consapevoli evidentemente di quello che facevano. Ma la banda nasce per strada da contatti occasionali, rapporti di amicizia, di conoscenza, di frequentazione che poi vengono cementati e si aggregano sul tema comune della droga e della delinquenza di strada. Quel video mostra un padre che incita suo figlio a commettere un reato e poi lo premia. Non è il valore in sé del pacchetto di patatine ma è il disvalore, quello sì elevatissimo, del gesto. Noi abbiamo inoltrato una segnalazione al Tribunale per i minorenni e speriamo che quanto prima ci sia una giusta valutazione anche sulla capacità genitoriale nell'ambito di questo nucleo familiare.